Lo scambio delle fedi deriva da questa, darvi i vostri polsi sinistri, voi vi abbracciate così che c'è, e allora io chiudo questo nastro per legare l'Orientrosi. Questo nastro in stile femminile, gloria e cosimo, sono in questa promessa che si sono fatte e si impegna a mantenere nel nome degli elementi, nel nome della terra, però non sono io che disposo, non sono io che vienesco, perché io sono solo la canna di bambino, attraverso la quale passa il vento, io non sono nulla. Non sono nessuno, dai miei piedi, le mie gambe, tutto il mio corpo, le mie mani e la mia voce. È la madre che passa attraverso di me, è lei la vostra testimone, è lei la vostra unica vera unificatrice. Così sopra, come sotto, sia, e tutti insieme, anche il pubblico se lo desidera, possiamo dare il nostro senso a questa coppia, dicendo Ho, ho, ho. Ora io, veramente lo slevo, mi rimando in giro, tutto il giorno legata. Però, è la tradizione, e oggi noi la continuiamo, che la sposa portasse poi questo nastro legato al colso per tutto il giorno. Ok, rappresenta la chiave di volta dell'arco formata dalla vostra unione, dal vostro amore. Manca questa, cade tutto, si perde tutto. Quindi questa pietra è il vostro, ricordarvi ogni giorno, di rimanere solidi, legati alla terra, prima di tutto. Ora noi la puliamo, quei quattro elementi, lo facciamo insieme, lì, se lo farò, anche voi, tutte le volte che vorreste.